Attenzione, eh? Eccoli qua. Allora, Hotel Italia. Andiamo qua? Oh, che è successo? Eh, come vi mettono le telecamere addosso alla fine, eh? Forza! Sentiamo gentilmente. Grazie Marco. Eccolo. Ecco, stiamo facendo il numero. Datemi il numero di una stanza. Giuseppe, 300? Dimmi il numero. 312. È grosso. 400? Sì, è troppo grande, 400. Pronto? Pronto. Hotel Italia? Pronto, buonasera, sono Maluri, Giovanni, sono il vostro cliente. Mi passa la stanza 120, grazie. Prego? La stanza 120, sono Maluri, Roberto. 120 non esiste, signora. Ah, che figo, arrivederci, grazie. Ma che ne so? Allora, cambiamo Hotel. Chi la dura? La luce. Allora, che succede? È arrivata ambra. Ah, ambra. Ragazzi, prometta agli italiani che ha detto che è l'ultima volta che viene in televisione, eh? State tranquilli, è una garanzia, l'ultima volta che verrà in televisione. Signori, l'abbiamo vista per anni e anni. Io l'ammazzerei. Ti sei messa la zanzariera? Ambra! Vieni, vieni qua. Come stai? Bene, grazie. Ma perché hai fatto tardi? Perché ero troppo emozionata. Veramente? Sì. Ma perché dovevi incontrare me? No, volevo essere più eccitata ancora. Eh, lo so, dopo ti presento il fio de Magalli, ecco la guarda. Vedi questo qui? Va bellissimo. Ecco, vieni, l'ambaccia ambra, veloce però, forza, forza. Basta, basta, bacio. Amo! Allora, quando vai in albergo, tu che numero chiedi solitamente? Distanza? 304. 304, attenzione. Proviamo, vediamo se porta fortuna ambra. No. Proviamo, eh. Devo stare zitta. No, aspetta, adesso dobbiamo chiamare l'albergo. 304. Quando è andata in albergo, chiedi... Aspetta, e chi è questo? Pronto? Mi passi, Gigi? Che sei, Gigi? Sì, chi è? A G! Ah, bella! Sono Romina! Oh, ammazza! Aspetta un attimo. Mi stanno a lavare i piedi, oh, aspetta. Ah, ma te lavi sempre i piedi, G! Ah, bella! Dove stai? Oh! Mi faccia tu, G! Mi faccia! Ah, Gigi, te volevo dire, non mi tutti ascena lì dallo sozzo? Dove allo? Allo sozzo! Eh, facciate, dà la voce un po', è ambiente tuo, eh. Ciao! Aspetta un po'. Staccatemi sto telefono! Staccami sto telefono! Io voglio andare alle tre... Hotel Califfo! Eh? È piccolo! È piccolo? Ma che conoscete tutti? Agent è piccolo, G! Scegli tu, forza, Ambra, su. Hotel Michelangelo, eh? R*****o! Forza! Ci sei già stata qui? Sì. Con? Te. Sì, me lo ricordo, però quella sera... Non te lo ricordi? Sì, sì, me lo ricordo. Facevi, eccolo, eccolo, eccolo. Sì, ma mi ha chiesto troppi sogli, allora. R*****o! Eh, buonasera. Buonasera. Senta, mi dà la stanza 304, sono Manueli, Giovanni? Grazie. Senta, ma forse hai sbagliato l'albergo. È l'hotel, c***o? Sì? Eh, volevo la stanza 304. Ma non l'abbiamo noi la 304. Non c'è la stanza 104? 104, non 304. No, signore, non ce l'abbiamo. No, scuola, da dove partono i numeri? Non ha 100, non ha 300, da dove partono i numeri? Se lei mi dice che cosa ha bisogno, lei posso dire da che parte le numeri? Ah, lei vuole sapere di che cosa ho bisogno? Sì. Volevo parlare col signor... Aspetti, le prendo il numero, eh. Non è che avete per caso, perché l'altro giorno... Non ci stanno i sali del suono che fa il signore, eh? Prego. Sto dicendo, l'altro giorno, non so se si ricordi, io sono venuto cliente da voi, sono stato tre giorni. Sì, l'ho apprezzato. Pronto? Sì. Ecco, non è possibile affassare la stanza 72? Senta, sarei a voglia di sfottere. Di sfottere? Hai sbagliato i numeri. Scusi, lei non ha la 100, non ha 300, capite? I numeri quelli che vi piacciono a voi. Stanza 5, 24, 98. Io chiedo, la stanza 74 è una gentile, credo, no? Senta, ma lei sta dicendo che è stata da noi tre giorni fa. No, ho detto che sono stato tre giorni da voi. Quanto? Sono Manueli Roberto, signore. Quanto? Mi scusi un attimo, il 23 dicembre sono stato da voi a Natale, sono stato tre giorni, il 26 di Santo Stefano sono andato via. Lei, se non sbaglio, è il signor Piero? No, non esiste un attimo. Lei mi ha salutato e mi ha detto, non si però che quando ha bisogno di noi saremo gentilissimi. Io sono gentile, ma se lei mi chiede delle cose che non ho, come faccio ad essere gentile? Io sono un collaboratore dell'albergo. Ecco, io le chiedo, la stanza, può passarmi la stanza 74? Signore, l'albergo sta in restauro. Aspetti, le passo papà, scusi, le passo mio padre, può attendere? Signore, l'albergo sta in restauro. Ah, sta in restauro. L'albergo non abbiamo nessuno. Madonna. Va bene, comunque allora le facciamo tanti auguri perché lei è simpatico, va bene? Grazie a lei. Si ricordi che nella vita, non glielo dico, mi creda, va bene? Non ricordo. Arrivederci. Allora. Forza. Ecco. Shhh. Buonasera. Eh, buonasera, sono Martuli. Mi dà la stanza 104, grazie. Eh, ma... Cosa? Sì, sì. Sì. Non c'è in albergo. Ahia, come mai signora? Eh, non lo so. Non è ancora rientrato. Ma no... Che ora rientra? Eh, non lo so. Non lo saprei. Mannaggia. Perché con chi posso parlare adesso? Senti, io non lo vedo da ieri, b****, anzi l'altro ieri, quindi non saprei proprio... Le posso lasciare un messaggio per il signor, b****, lo riferisco, mi dica come si chiama, tutto... Allora, io sono Fernando, b****, sono il nipote, volevo lasciare un messaggio, è possibile? Fernando, b****. Saludio, attenda un attimo, eh. Sì. Stasera voglio farti un regalo Che ti faccia ricordare Ti scordarti non sai Ho sentito questo disco suonare L'ho comprato per te Perché pensi un po' con me Questo disco è il pensiero Un amore E te E te Ogni volta che lo senti suonare Pensa a me A me Accetta questo regalo Se il mio amore non vuoi Questo a me lo vorrai Un regalo non si pute mai via Quando solo resterà Potrà farti contami via E questo disco è il mio pensiero Un amore Prese Prese Anche se non potrà farti tornare Con me 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 Pronto? 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 Signora ecco il foglio Allora Se domani 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 al Ho scritto? Sì Mureto Che è il posto dove mi chiama lui solidamente Mureto Mureto Sì le faccio lo spelling Mureto Ho capito Finisco con la M Come Napoli Sì U Come Usignolo Sì R Come Germania Mureto E Come Ermellino Ti come Roma O come Otranto Scritto Mureto Sì Domani al Mureto Mi può Chiamare Mi Mi Può Può Chiamare L'ha scritto? Sì Allo Zero Signora Può parlare anche più velocemente Ah che ne so signora Allo zero sei Ma lei ha intenzione di sfruttere la gente a quest'ora Non ho capito signora Ha intenzione di sfruttere la gente a quest'ora No se lei mi vuole sfruttere a me No io non la voglio sfruttere assolutamente Anche io signora perché io sto lavorando non so lei Eh io anche Lo sa che sto facendo adesso io signora Non so Non ho capito 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 Ecco manca a me mi piace tanto signora Ecco appunto Perché se il signor Ha capito Ecco Alla 37 24 5 2 Se lei pensa soltanto Lo sa quante persone Eh 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 Signora D'altro 5 Tu ha segnato? Sì sì Può leggere? No Come no? Perché ride? Eh non lo so Mi viene È il minimo che possa fare a quest'ora Guardi Ma come si permette Signora Comunque Questo è libero Lei sa cosa è libero? Cosa? Certo Signora 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 Sì? Allora le dico la verità Sì Lei È vittima di uno scherzo telefonico Lo capisco Sento pure ridere Ah Allora ci sta diventando Mi fa un favore Sì Ci passa una stanza Voglio fare uno scherzo in una stanza Dicendo che sono Quell'addetto alle pulizie Voglio fare uno scherzo Guarda 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 Ascoltami Non ti posso passare proprio nessuno Perché sono tutti tedeschi E non parlano neanche un altro italiano Oh Vai a un tedesco Ciao la traduttrice qua Signora me la passi Parlo in tedesco Aspetta un attimo Grazie Non mi attaccare però Sì che attacca Che non mi sto prendendo giusto Sono due ore e mezza che sto qua Ssss Ssss Ma il tedesco Vieni qua Linda Ma che me frega Ma chi è qua Entra con il cartellone Ecco così c'ho l'ambra Senti tedeschi Come si dice buonasera Come stai? Buonanacht Wie heißt du? Dicci come ti chiami Come dice parloci Buonanacht Wie heißt du? Wie heißt du? Buonanacht Wie heißt du? Ok Stai proprio vicino Buonanacht Sputa la gomma Ma che c'è la gomma Attacca l'infronte Al fio di Magallico Ssss Facciamo una cosa Abbassiamo la luce Ci godiamo questa canzone Vieni Ambra Magalli Rendi Linda Su Sei zitta Linda È finito? Ssss Hallo Good night Wie heißt du? Hallo 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 Good night Fianzi Do you speak English? No No You speak Italy? No Do you parle français? No Deutsch Speak du Sprich du Deutsch Ecco Io parlo Grazie Linda Grazie Linda Grazie 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 Grazie